In questi anni non sono poche le case automobilistiche che, per fronteggiare la crisi, puntano tutto sull'ispirazione, e per Citroen non vi è crisi su questo aspetto, come dimostra una sorta di remake che tocca diversi aspetti, dalla meccanica dei motori all'aspetto dell'estetica, passando per la comodità interna e tutto l'apporto di tipo tecnologico. Che cosa ha scelto? Una sorta di remake che tocca diversi aspetti, dalla meccanica dei motori all'aspetto dell'estetica, passando per la comodità interna e tutto l'apporto di tipo tecnologico. Che cosa ha scelto? Una sorta di remake è quello che fa da sempre la Citroen che come i grandi altri brand studia molto approfonditamente i nuovi rinnovi dei modelli per di più considerati VIN ed ecco cosa è accaduto. Con la Citroen C5X si fa un balzo quasi nel futuro, ma non si dimentica il passato, tradizione e immaginazione, in pratica, si fondono insieme e trovano quasi un domani. Con la Citroen C si rinnova ma guarda al passato, ecco che cosa rappresenta la nuova vita della Citroen C5X che parte da una linea stilistica, e non solo, tipicamente da anni sett... Ovvero sia, tutto parte da un preparatore e youtuber, tale Bainin che ha suggerito una personalizzazione davvero intrigante, fin dai piccoli dettagli come... Ruote coperte, sospensioni nuove, e un vero e proprio remind alla Citroen. Se i primi cambiamenti, che hanno portato alla nascita della Citroen Versailles C5X, si facevano soprattutto identificare sul piano estetico e sulle altezze, adesso ci sono dettagli. Se i primi cambiamenti, che hanno portato alla nascita della Citroen Versailles C5X, si fa... Va detto che i suggerimenti di Bainin passano anche, e parecchio, dalla sfera puramente estetica per questo restyling che sembra cogliere molto dalla bellezza retro della casa madre. Va detto che i suggerimenti di Bainin passano anche, e parecchio, dalla sfera puramente estetica per il passaruota fino alle modifiche dell'assetto del cerchio in lega che diventa lucido, si passa alla già citata copertura delle ruote.